ah buongiorno somari l'estate iniziata ma non per voi diamo inizio ai corsi di recupero già tutto l'anno sono anzioso devo venire pure i corsi di recupero allora i promessi sposi ricottette tor rodrigo non lo voleva questo matrimonio quindi ammazzò renzo che in cui ci fu la rivoluzione francese avete capito no adesso qualcuno me lo viene a spiegare la lavagna come qualcuno la lavagna ma che stiamo scherzando ma non volete che mi aiuti bene simulazione d'esame ma io dico già durante tutto l'anno adesso pure la simulazione d'esame no no ma io sono in vacanza ma stiamo scherzando su dai ragazzi al massimo poi venite bocciati per fare questo sono crisi di panico crisi esistenziale come da qualcuno ragazzi ma non preoccupate ma secondo me ci rimandano ci fanno fare questi corsi e poi ci bocciano all'ultimo io mi sono già comprato lo zaino per settembre glielo ho detto a mia mamma mia mamma ancora non sa di corsi di recupero però insomma lei mi ha preso lo zaino nuovo ma comunque non preoccupatevi ragazzi tanto ci promuovono tutti ha detto lui ragazzi volete eh? al stomaco pieno si ragiona meglio eh? non mangiare tutto l'anno che mangi tu mi vedi? mi vedi? non ci sono più mi vedi? non ci sono più oh ma che cavolo fai siiii? scusi professoressa quanti ne abbiamo? quanti ne abbiamo? mamma mia come siamo messi qua ti manco il tuo nome ti ricordi? chi siamo? da dove arriviamo? mi dici la... la... la copiare dammi una mano dammi qualcosa non copiare! no 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 professore non sto a copiare ah che bello che bello la scuola mamma ma cosa ci... eh si Matteo sono venuta a controllarti mamma per favore va a mettere no caro Matteo io non vado proprio da nessuna parte perché sono mamma bise guarda posso dire cuore poi poi promuovete tutti quanti ah neanche chi non se lo merita pronto? la finite di fare casino silenzio eh professore non ce la posso fare ma non ce la posso fare ma non ce la posso fare ma non ce la posso fare una quattro? bo 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 eh... comunque come scusi professoressa quanti ne abbiamo? ma basta io non mi sopporto più me ne vado a forma intera con le mie colleghe ciao tanto vi boccio tutti a settembre iscriviti al nostro canale a prossimhin iscriviti al nostro canale Grazie.